un buongiorno dai Dinamo Studios di via Pietro Nenni, Valentina Sanna, Paolo Citrini, pronti Paolo a commentare la giornata di ieri che è stata una giornata incredibile piena di notizie. Abbiamo salutato il nostro Achille Polonara che è volato in Spagna e l'abbiamo visto già arrivato a Barcellona per giocare a Vittoria Basconia e giocarsi le sue chance in in Eurolega e abbiamo dato invece il benvenuto a Jamel McLean. Prima di parlare del nuovo salutiamo a Dovere il Vecchio. Salutiamo Achille, un ragazzo che ha conquistato questa piazza, lo ricordiamo, è arrivato due anni fa, da cerimo nemico in maglia Grissinbon Reggio Emilia, è diventato idolo di queste folle e ha entusiasmato il popolo bianco blu con rinnovo arrivato in estate. Che cosa lascia Achille e che chance però si va a giocare Paolo? Ecco qui c'è il primo punto da chiarire per quanto riguarda il nostro popolo bianco blu che ieri un pochettino è stato un po' scosso da questa notizia ma sfido chiunque veramente da professionista a non accettare un'offerta del genere arrivata da uno dei top club europei a livello del Real Madrid. Basconia è una società incredibile, gli permette di giocare l'Eurolega, gli permette di giocare ai massimi livelli, dopo c'è solo l'NBA, è ovvio che Achille è un ragazzo di cuore, un ragazzo che aveva dato tantissimo nell'ultima stagione, che aveva trovato un feeling con gli italiani, che era convinto di rimanere perché è ovvio che se ti arriva magari un'offerta da un'altra squadra italiana, ad un'altra squadra che fa la Champions League o che fa l'Eurocup, lui decide di rimanere giustamente nel posto dove si trova meglio, dove è legato, dove ha tutti i suoi affetti. Quando arriva un'offerta del Basconia, onestamente parlare di ragazzo attaccato ai soldi, piuttosto che altre cose, secondo me sono discorsi veramente che non hanno nessun senso, il professionista che ha un'occasione del genere, se Spissu o Pozzecco li chiamano Real Madrid ad allenare o giocare, anche se uno è nato a Sassera, anche se uno ieri ha pianto perché andava via Polonara e l'ho visto con i miei occhi veramente commuoversi per aver lasciato un pezzo di cuore con uno dei suoi figli come li chiama lui, ci sta tutta la vita e quindi un grosso in bocca al lupo ad Achille che ha dato tutto per la maglia Dinamo, magari sarà un arrivederci chi lo sa e accogliamo un giocatore che ieri è un po' passato sotto traccia giustamente per il fatto che Achille lasciava come Jamel McLean, Jamel McLean per la Dinamo è un top player ed è un colpo grandissimo da parte di Federico del Pozz e della società perché trovare in così breve tempo un giocatore di quel livello e che possa sostituirlo è una grande cosa e quindi Jamel McLean è un grandissimo giocatore. McLean che torna in Italia dopo aver disputato due stagioni all'Olimpia Milano, in maglia Olimpia Milano ha vinto lo Scudetto, due Coppa Italia, una Supercoppa, un giocatore che ha trovato la sua consacrazione, ha iniziato la carriera in Belgio, si è poi spostato in Germania, ha trovato la sua consacrazione all'Alba Berlino che arriva da due stagioni una all'Olimpia Cos in Grecia dove si è ha disputato ovviamente l'Eurolega e l'ultima stagione a Locomotive Cuban, un 4-5, un ala forte possiamo dire Paolo, come cambia questa squadra con l'arrivo di McLean? Sì cambia perché al di là che Achille fosse un giocatore che fosse perimetrale ma atletico, è un giocatore che giocava più fuori McLean e più un 5-4 che ha grande peso sotto canestro, che è molto atletico, ha meno tiro sicuramente però è un giocatore che alza ancora di più la fisicità della squadra, che può giocare insieme a Bilan per dare grandissima consistenza sotto canestro ma può giocare anche insieme a Evans con Pierda 3 ed essere un quintetto veramente molto molto atletico, è un giocatore che ha grande esperienza come giustamente dicevi tu che ha fatto già delle esperienze importantissime a livello di Eurolega, a livello di Eurocup, Cubane è una squadra assolutamente di altissimo livello anche come organizzazione, come scelte, come budget, Milano ha sempre fatto l'Eurolega ha vinto lo Scudetto, è amicissimo di Gerrels con cui si sentono spesso, è un giocatore sicuramente, ha giocato anche con Daniele Magro, un giocatore che secondo me va a rinforzare in una maniera esponenziale la Dinamo anche se perde Polonara con una scelta ben chiara, Evans verrà schierato sempre da numero 4 perché probabilmente in queste prime settimane o comunque ha destato il fatto di non essere veramente un 5 anche se ci aveva giocato in Germania, più adattato e quindi McLean e Bilan faranno i numeri 5 o giocheranno insieme e si alza ancora di più, come detto il tasso fisico e atletico per me è un giocatore veramente un top player che i tifosi della Dinamo possono veramente essere molto contenti di questa presa da parte della società. Un top player quindi sulla strada per Sassari perché non è ancora arrivato sull'isola ma in realtà la gente a bianco blu è fittissima di impegni. Domani sera l'appuntamento è alle 20 e 30 in piazza Santa Caterina per la presentazione ufficiale ai tifosi. La madrina sarà la nostra adorata JP Cucciari che anche stamattina sui social dava appuntamento ai tifosi in piazza e poi Paolo debutto sul campo nonostante le modifiche sul mercato è già tempo della prima uscita ufficiale sul parquet contro Torino diciamo che si gioca in casa. A parte a parte i biscotti della settimana negli scrimmage tra Demi Scavina e Poz e il presidente che ovviamente in questo caso è lo stesso è un test sicuramente che fa bene la Dinamo perché comunque un'altra cosa importante il fatto che sia Poz che tutto lo staff possano lavorare sulla squadra al completo e nessuno al mondiale nessuno con altri problemi adesso dovrà arrivare McLean che dovrà fare il visto ci dovrà essere i tempi tecnici per poterlo avere a disposizione però hanno potuto lavorare con la squadra al completo e questo è già un grosso primo passo in avanti. Lo scrimmage è andato molto bene, c'è un buonissimo atteggiamento di tutti, ha preso secondo me come avevamo detto Poz dei grandi professionisti, delle grandi persone perché ho visto allenarsi vitali altissimo livello per come si allena, Bilan è altissimo livello per come conosce la palacanestro, per come si adatta, Gerels mi sembra un giocatore che di basket ne abbia visto tanto e ne abbia visto tanto ad alto livello quindi per la Dinamo arrivano le partite ufficiali assolutamente per cercare di mettere benzina nel motore, per conoscersi, per avere i nuovi che si inseriscano e che sono già tutti qua, poi arriverà McLean ma la cosa importante è anche che Torino non è sicuramente una squadra di A2 che lotterà per salvarsi ma Federico ed Emis hanno costruito una squadra molto molto interessante con Usman da 5 con il Pinkins che è uno degli MVP dell'anno scorso della A2 da numero 4 con Ali Begovic, con Mars che è un giocatore di squadra, con due playmaker italiani molto interessanti come Cappelletti e Traini, poi c'è Campani, quindi una squadra che assolutamente darà del filo da torcere alla Dinamo nel senso che la differenza tra 1 a 2 di solito è molto grande, però Torino secondo me lotterà per le prime posizioni, quindi una bella amichevole. L'abbiamo detto, ieri è stata una giornata intensa e infatti nel Deors della piscina del Geovillage è stato presentato il secondo basketball tournament sponsorizzato Air Italy, è stata l'occasione Paolo anche per annunciare il rinnovo della partnership perché se è vero che il progetto sportivo sul campo avanza a grandi passi anche tutto ciò che ruota intorno alla società non conosce un giorno di sosta e non conosce pausa. A me fa sorridere il fatto che i quotidiani e i siti online parlino del buyout di Polonara, perché dicono che la Dinamo alla fine ha preso dei... ma è normale che succeda così quando tu hai un giocatore che ti possa garantire, gli dai la possibilità di realizzare un suo sogno, ma ovviamente c'è un contratto e per liberare un giocatore devono pagare un buyout, ma non è il fatto di se stesso dei soldi, è il fatto di avere una società solida che esce Polonara, prende un giocatore della stessa forza con un budget importante e quindi li rinveste nella maniera migliore, grazie anche Banco di Sardegna a tre anni, Eritaly tre anni, più di cento sponsor, questa è la capacità di essere solidi, di essere pronti sul mercato quando c'è da intervenire, di avere una squadra competitiva e questo te lo permette solo, come hai detto tu, dei rinnovi trennali di questo genere che ti permettono di programmare e la Dinamo l'ha dimostrato negli ultimi nove anni di avere sempre delle stagioni competitive, di essere sempre sul pezzo dal punto di vista della solidità di squadra, perché abbiamo visto la stessa Torino, Avellino e in passato Cantù, altre squadre avere Fortitudo che ritorna con grossi problemi e noi per adesso ci stiamo in Serie A e ci stiamo in Serie A come modello per le altre società, quindi Eritaly è solo un altro di quei tasselli importanti che la Dinamo ha rinnovato in questo periodo. Parliamo di basket, non soltanto quello confinato alla Dinamo, ma parliamo di mondiale, perché sta per iniziare l'avventura del Little Basket del Cittimeo Sacchetti, che ha fatto gli ultimi due tagli e si prepara al debutto del 31 agosto. Paolo, che nazionale italiana vede? Una nazionale che arriva da sei sconfitte nell'ultimo torneo, un dato che fa pensare, c'è qualche perplessità, c'è qualche assenza a livello di ruolo, che nazionale vedi? È una nazionale che nasce con delle difficoltà, perché ovviamente ha avuto i giocatori NBA solo all'ultimo momento, ha perso un giocatore fondamentale come Melli, però ci sono tante altre squadre nazionali che hanno perso giocatori per infortunio o per rinunce. Ha detto bene Poz che l'Italia, sempre nella storia sportiva, in tutti gli sport, quando è andata male, nelle amichevoli, penso l'Italia del mondiale dell'82 e di Svezia 2003, anche quella del Poz quando ha preso l'argento olimpico non era assolutamente considerata, ha sempre fatto bene dopo. Quindi ci leghiamo un po' a questa scaramanzia e un po' al fatto che il torneo è molto forte, esistono delle squadre molto forti, il girone è chiaro, bisogna battere Filippini e Angola e giocarsi il primo posto con la Serbia, perché se perdi con la Serbia rischi di incontrare la Spagna e dopo l'ottavo di finale comunque diventa molto difficile per poi riuscire ad andare a medaglia. È ovvio che la Dinamo patisce sotto canestro perché non ha dei lunghi veri, può giocare Danilo da 5, c'è Biliga, c'è Tessitori che comunque sta facendo dei passi in avanti molto importanti, però è anche vero che quando si giocano questi tipi di competizioni, poi la fame, la voglia, la dinamicità, l'avere dei piccoli, l'avere un giocatore come Hackett è fondamentale, come Billinelli anche, un capitano come Datome, tutti che hanno grandissima esperienza europea, hanno giocato al Cesca, al Fenerbace, giocano nell'NBA, quindi una nazionale assolutamente da non sottovalutare. Poi se ti dico la mia opinione, USA sempre con un leggero vantaggio, anche se hanno rinunciato in tanti, rimane sempre con Kemba Walker, con i giocatori che hanno portato comunque la mini favorita, anche se io vedo Grecia con l'MVP dell'NBA, Serbia molto forte e io direi che la mia underdog è assolutamente l'Australia, per esempio ieri sulla gazzetta non considerata neanche tra le prime dieci, secondo me è Patty Mills della vedova, Aaron Baines, tanta roba, secondo me Australia underdog e speriamo che sia underdog anche l'Italia. E sono arrivati gli ultimi due tagli alla Nazionale Azzurra, Brian Sacchetti, Gian Paolo Ricci, che cosa ne pensi tu Paolo? Ovviamente devi sceglierne 12, devi tenere quelli, Tessitori è l'unico vero lungo che avevamo di peso e va tenuto secondo me come B-Liga, Meo crede tantissimo in Ariel Filloi, giocatore di grande personalità, crede in Amedeo della Valle, per questo è andato via anche Aradori in precedenza, secondo me la Nazionale migliore che si possa avere anche in questo momento, poi tanti dicono ci poteva essere Tonut, ci poteva essere Polonara, ci poteva essere Aradori, peccato che non ci sia Melli, però alla fine uno deve fare le scelte, le scelte le fa l'allenatore, con il suo staff, con la Nazionale, quindi ha deciso di portare questi 12, per questi 12 tiferemo e Ricci perdiamo un giocatore che ha tantissimo IQ gestistico, che lo sarà fondamentale anche a Bologna nella stagione della Virtus e Brian è un giocatore che ovviamente giocando anche per suo padre con uno stimolo, con una garra davvero importante, aveva dimostrato anche lui di essere molto intelligente ma problema, probabilmente il livello fisico del mondiale, me ha voluto portare qualcosa di diverso e qualcosa di cui si fidava secondo le sue idee gestistiche. C'è un'altra nazionale pronta a scendere in campo, è quella degli azzurri del basket in carrozzina che vede Fabio Raimondi e Claudio Spanu impegnati nell'europeo, anche loro sono pronti al debutto perché si parte sabato 31 agosto alle 19 contro la Gran Bretagna. Paolo, un'altra grande partecipazione tra l'altro che riempie di orgoglio la Dinamo Lab che vede il suo coach giocatore e il suo capitano a rappresentare quest'isola. La seguiremo sicuramente, abbiamo le nostre Breaking Dinamo per darvi tutte le notizie a giornate a fine serata di quello che è successo durante la giornata, seguiremo ovviamente l'europeo da vicino, abbiamo intervistato che sono molto orgogliosi sia Fabio che Claudio di partecipare a questo europeo, Fabio non se l'aspettava più ma sarà una delle pedine anche più importanti, ovviamente Claudio rappresenta anche la Sardegna e il fatto di essere sassarese, quindi bene così, speriamo di un buonissimo risultato, ci sarà il quarto di finale che è determinante per andare alle Olimpiadi del 2020 perché passano le prime quattro e quindi la chiave sarà proprio riuscire nel girone a piazzarsi meglio possibile per poi affrontare un quarto di finale per poter riuscire a qualificarsi alle Olimpiadi, penso che questo sia l'obiettivo sperando di avere i due ragazzi della Dinamo protagonisti come lo saranno l'anno prossimo in Serie A. Prima di chiudere vi facciamo leggere le parole dei genitori di Achille Polonara che ci hanno tenuto ieri a ringraziare la società, la città, i tifosi per l'accoglienza che hanno ricevuto e per l'esperienza che hanno vissuto in queste due stagioni in Sardegna. Sono parole che riempiono d'orgoglio il club ma penso tutta la piazza perché fanno realmente capire come Sassari possa essere qualcosa di speciale e sia sempre destinato a restare Paolo nella memoria di chi vive qua e di chi gioca indossa per questa maglia. In chiusura noi vi ricordiamo gli appuntamenti perché domani Paolo si inizia a ballare. Si inizia a Piazza Santa Caterina con alle 20 e 30 con la presentazione di tutto il nuovo roster ovviamente con quelli confermati ai tifosi con quelli nuovi e dunque poi ci sarà poi più tardi l'arrivo ovviamente di McLean però ovviamente la possibilità per tutti i tifosi di conoscere la nuova squadra dal vivo e poi successivamente c'è il torneo. E poi si entra nel vivo della pre-season con il debutto ufficiale sul campo lo ricordiamo fissato sabato alle 20 e 30 al Geo Palace di Olbia. Il torneo aprirà i battenti alle 18 con la semifinale tra Anadolu, Efes e Urania Milano. Nella seconda giornata finalina terzo quarto posto in agenda alle 18 e gran finale con assegnazione del secondo basketball tournament e i riteli alle 20 e 30. Noi saremo al Geo Village, vi racconteremo il torneo con interviste esclusive con tutti i servizi in diretta quindi vi invitiamo a restare connessi e vi ricordiamo che sono già in vendita i biglietti al Geo Village di Olbia e al nostro Dinamo Store qua in Via Nenni tra l'altro con promozioni esclusive perché quest'anno i bambini entrano gratis e gli accompagnatori sono agevolati con un biglietto a un prezzo speciale quindi vi invitiamo e vi diamo appuntamento al Geo Village e sempre qua su Dinamo TV per tutti gli aggiornamenti in diretta dell'universo bianco blu. Da Valentina Sanna e Paolo Citrini un augurio di una splendida giornata. Arrivederci. Ci vediamo venerdì alle 20 e 30 in piazza Santa Caperina.